Tutto è pronto, possiamo partire! Tutto è pronto! Voltare a sinistra. Andare dritto. Voltare a sinistra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Tenersi a destra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. La prima uscita. Grazie a tutti. Andare dritto. Alla rotatoria prendere la terza uscita. Tenersi a destra. Uscire a destra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Un'altra rotatoria prendere la terza uscita. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire a destra. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Un'altra rotatoria prendere la terza uscita. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Alla rotatoria prendere la prima uscita Tenersi a destra Uscire adesso Alla rotatoria 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 Prendere la terza uscita Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Voltare a destra Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria E poi voltare a destra E poi voltare a destra Voltare a destra Voltare a destra Alla rotatoria 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 Voltare a sinistra. Voltare a destra. Fine del viaggio. No, no, no.